Di Giovanni, fra poche ore ci sarà un incontro tra i sindacati e i vertici ASL di Pescara per parlare delle problematiche soprattutto inerenti al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Quest'incontro ci sarà domani, avete voluto fortemente incontrare i vertici dell'ASL per manifestare insomma quelle che sono le problematiche che attanagliano proprio il pronto soccorso. Sì, hai detto bene, le problematiche che attanagliano il pronto soccorso sono impellenti e devono senza ombra di dubbio trovare una soluzione con naturalmente l'apparato strategico, i medici responsabili del pronto soccorso, dell'emergenza e quant'altro. Insomma tutti quelli che sono deputati a risolvere queste questioni perché ci sono liste di attesa incredibili, ci si recca il pronto soccorso e si è lì a 9, 10, 12 ore, molti vengono lasciati presso il pronto soccorso per 3 o 4 giorni e quindi è evidente che c'è un problema, c'è una criticità che bisogna assolutamente risolvere. Avete però ottenuto già delle risposte importanti dall'ASL di Pescara per quanto riguarda invece altre problematiche? Sì, debbo dire che unitariamente con le altre organizzazioni sindacali e anche per l'apertura dell'ASL e debbo dire con la regione Abruzzo abbiamo trovato alcune soluzioni importanti che erano quelle appunto della proroga sino a dicembre 2022, dei quei contratti a termine che erano in scadenza a giugno 2022 e in più si è sbloccato finalmente quanto all'indennità di produttività per le lavoratrici e i lavoratori della sanità di Pescara. In generale, Giovanni, allargando un po' di discorso, resta la questione della carenza di personale un po' in generale? È evidente che noi stiamo parlando di contratti a termine che scadevano in giugno e sono stati prorogati grazie alla nostra azione, l'azione sinergica che è stata fatta con le istituzioni fino a dicembre 2022. È evidente che stiamo parlando di oltre 300 dipendenti, quindi siamo quasi vicini a 400 ed è evidente che questi 400 hanno bisogno di essere stabilizzati per risolvere quelle criticità a cui si faceva riferimento.